Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Manuel e Romulo Come fare un pacchetto, un mini pacchetto Con qualsiasi pacchetto di sigarette E possiamo iniziare Ok guardate allora Dovrei togliere prima cosa la mutanda delle sigarette Poi dovrete togliere questa parte qui Anteri... Guardate? Quella dentro Toglierlo Poi per essere più precisi aspettate Non posso? Non posso? Non posso? No Allontano Per essere più precisi dovete tagliare il pacchetto Pure anche con le dita Dovete tagliare fino alla scritta nera Tutte le due le parti Tutte le due le parti Ok E questa parte qui Noi siamo quelli di pizzicotati a fare con me Ovviamente Ma metti un capello andano su... Poi dovete tagliare le alette queste qui Dovete asportare Fino a pari di queste qua Anche questa... Dovete anche questo? Anche quest'altra E' complicato perché Ok Fatto questo dovrebbe uscire questo qua Questo cosa qui Ok Allora Per prima cosa Non fate un cazzo Allora Prendete questo Qui E lo tagliate Io lo tolgo Lo tolgo perché piace più Metterlo Però è più comodo farlo con le forbici Con le forbici Però adesso non le trovo Ci dobbiamo arrangare Torto questo Questo qui Lo mettete dentro Quindi Vedete Lo piegate E lo montate dentro Lo spingete E vi Ridiuscire Questo oggetto qui Poi Mettete queste Per comodità Le potete anche le togliere Però Io le Solo Faccio così E taglio Ed ecco qui Un mio Che si apre Che si Anche Ok Ok Allora Quindi Il realizzatore Iscrivetevi Iscrivetevi al video Al nostro canale Che È molto utile E divertente Ciao Alla prossima Arrivederci Mini pacchetto È molto facile da costruire Basta che seguite le nostre Indicazioni E uscirà un pacchetto E uscirà un pacchetto Arrivederci Arrivederci Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima